Buongiorno, bentornati su Admirals. Abbiamo visto nel precedente video, che troverai linkato da qualche parte, ecco, come andare a trovare i target per quel che riguarda e utilizzando le inefficienze di prezzo. In questo video invece andremo a vedere come andare a trovare i target sfruttando appunto le zone di accumulazione e distribuzione, che appunto abbiamo già visto in un precedente video che troverai anche questo linkato da qualche parte in questo momento, dove appunto andremo a vedere come andare a cercare i target una volta che l'operazione è entrata e, ad esempio, è andata a nostro favore. Come prima cosa dobbiamo assolutamente individuare le zone di accumulazione e distribuzione, e per questo c'è già il video fatto, come dicevamo, e poi in secondo luogo dobbiamo andare a capire come gestire le operazioni, proprio perché durante l'operazione possono esserci più aree e più target di conseguenza che possono essere andare a preso durante l'operazione. Cioè, con il primo target, ad esempio, andare a chiudere metà posizione e con la seconda metà posizione andare a vedere di cercare di prendere il target più lontano, cercando sempre di regolare secondo lo stop impare, comunque andiamo a vedere un pochino tutto. Molto importante, prima ancora di aprire l'operazione, è appunto avere un'idea del target, proprio perché, come l'avevamo sull'inefficienza, dobbiamo averlo anche utilizzando le zone di accumulazione e distribuzione, proprio perché è inutile che andiamo a prendere un'operazione, magari che la prossima zona di resistenza, barra di supporto, in base a come vogliamo vederla, è molto vicina. Dobbiamo comunque cercare di andare a prendere dell'operazione in cui lo spazio vitale, o comunque lo spazio di target, è consono rispetto allo stop che andiamo a prendere. Però per questo è sempre bene fare un ragionamento sul rischio e rendimento dell'operazione. Non mi piace a me il classico rischio 1-2, 1-5, eccetera, proprio perché è molto aleatorio e poco pratico, a mio parere. Però comunque non dobbiamo andare a ragionare con delle zone troppo vicine e quindi dobbiamo cercare di andare a prendere, quantomeno andare a concentrarsi sulle operazioni che possono avere un valore, cioè un movimento possibile del prezzo in modo più semplice e comunque che sia ragionevole, che sia che porti rendimento. Questa cosa comporta? Comporta anche il fatto che può essere che noi andiamo a reggettare delle operazioni. Andare a reggettare le operazioni perché? Perché ad esempio abbiamo due zone molto vicine in cui, è vero, può essere interessante andare a prendere movimento, però sono talmente vicine che, parliamoci chiaro, il rischio non vale la candela, non vale la candela proprio perché magari lo stop è di 50 euro per andare a prendere 40, 30, 20, 50, eccetera. Cerchiamo sempre di andare a contingentare, comunque andare a concentrarsi dove effettivamente c'è la polpa, dove c'è il rendimento dell'operazione che cerchiamo di andare a fare. Quindi, cosa fare? Spostiamoci in MetaTrader e andiamo a vedere tutto insieme, tanto è inutile stare qui con me, col mio faccione. Spostiamoci in MetaTrader e vediamo un po' di esempi pratici che possono essere utili per andare appunto a vedere come sfruttare le zone di accumulazione e distribuzione per prendere i target e i ragionamenti da fare. Spostiamoci in MetaTrader. Quindi, vediamo di approfondire in piattaforma, come ho detto prima, appunto come andare a cercare un target per quel che riguarda le zone di accumulazione e distribuzione. Nella giornata di ieri l'S&P 500 avevamo analizzato, avevamo fatto l'analisi e reputavamo interessante il fatto che nel momento in cui avesse perso i 4174, che praticamente è questo livello, questo livello statico, il mercato potesse essere appunto interessante per cercare un'operazione ribassista con che target? Il target dell'operazione era proprio individuata con questo box che praticamente si estendeva dai 4148 ai 4137, che era appunto una zona di accumulazione e distribuzione di qualche giorno fa, precisamente questa che andiamo a segnare. Quindi, cosa abbiamo fatto? È stata fatta l'operazione ribassista appunto, e come target avevamo appunto preso il box di accumulazione e distribuzione che ci eravamo segnati nei giorni scorsi. Questi box di accumulazione e distribuzione, come detto in precedenza, possono essere individuati seguendo il video che troverai, come dicevamo, in allegato nella descrizione del video. E in più, oltretutto, questa zona di accumulazione e distribuzione vediamo che era preceduta nella discesa da un'efficienza o comunque un movimento di mercato molto veloce che abbiamo visto nel video precedente, sempre linkato in descrizione, come inefficienze di prezzo. Sotto questo punto di vista, assolutamente, era un'ottima operazione proprio per questa cosa che andava a unire le due cose, cioè un'inefficienza e quindi inefficienza con possibilità di target di prezzo all'inizio dell'inefficienza precedente. E oltretutto avevamo un box di accumulazione e distribuzione che, ancora di più, andavano a aumentare la possibilità che il target fosse un target ben definito e che il mercato, abbiamo visto, poi ha accennato, ha cominciato ad accennare proprio un'inversione di prezzi da questi livelli. Cosa fare, ad esempio, nella giornata di oggi? Nella giornata di oggi abbiamo visto l'analisi che in questo momento siamo fuori orario perché comunque stiamo registrando questo video intorno alle 11 e mezza, siamo fuori orario perché il mercato è arrivato su una zona di resistenza e quindi da questa zona, ad esempio, andremo a prendere, andremo a cercare, quantomeno, la possibilità di effettuare delle operazioni ribassiste. Con che target? Il target, in questo caso, vedete che il mercato non è che ha lasciato molto nel giù, durante la giornata di ieri, in questa zona. Quindi il target sarà sempre questa zona di accumulazione e distribuzione che ci siamo segnati sempre dai giorni scorsi dove oltretutto il mercato, vedete, che ha lavorato nel giorno precedente. Non è stato preciso al centesimo, diciamo al millesimo, però comunque vedete che in questa zona ha lavorato e assunto valore e vedete che appunto la zona centrale è proprio questa, che sommata alla lavorazione del prezzo che ha avuto in questa zona, posso andare ad eviduare ancora come target dell'operazione ribassista proprio a questo tipo di livello operativo. Altra cosa, nel caso in cui, ad esempio, il mercato dovesse salire al rialzo, avremo ad esempio come target questa zona che è proprio la zona di accumulazione e distribuzione, vediamo qui, che ha lavorato nei giorni scorsi il mercato e che assolutamente può essere un target valido per quel che riguarda l'operatività di mercato. Meno evidente, infatti, non ho consigliato questa mattina di essere così aggressivi sulla parte superiore, e soprattutto proprio perché le zone di accumulazione e distribuzione devono essere ben chiare e ben precise. E questo è il classico esempio lampante di quello che può essere appunto una zona di accumulazione e distribuzione utilizzata come target dell'operazione e assolutamente, successivamente, può diventare, ad esempio, una zona di accumulazione e distribuzione dopo essere arrivato a un target, può diventare, ad esempio, un punto di partenza per una nuova operazione. Faccio l'esempio, il mercato dovesse successivamente scendere, crollare e arrivare in questa zona. Questa zona assolutamente sarà interessante per cercare poi di cogliere delle operazioni rialziste e quale sarà la nostra zona di target? Un'altra zona di accumulazione e distribuzione del mercato, che è proprio questa. Vedrete, se riuscite ad andare a identificarle in maniera molto precisa, che il mercato si muove costantemente fra queste zone, soprattutto quando il mercato è volatile, è un mercato vivo, ecco, non quando il mercato è lento, macchinoso, eccetera, che con quel tipo di mercato succede un po' di tutto, ma quando il mercato è molto volatile e si muove bene, sostanzialmente il mercato va da un'area all'altra dove esattamente è stato scambiato maggiormente e vi rendete conto che la zona di accumulazione e distribuzione è da individuare e da utilizzare sia come target, sia poi eventualmente anche interessante per, una volta raggiunta la zona di accumulazione e distribuzione, per cercare di andare a trovare, ad esempio, un movimento contrario, come è avvenuto poco precisamente in questa zona, nella giornata di ieri, ma come solitamente avviene, potete vederlo sull'analisi quotidiana, tendenzialmente le zone vengono molto, molto rispettate e sono sia target di un'eventuale operazione, sia possono essere la zona da cui si scattina un'inversione di prezzo molto, molto importante. Quindi, assolutamente importantissime queste zone, andare a individuarle e andare a segnarsene sul grafico per utilizzarle come target e come zona in cui potrà scaturirsi un nuovo movimento contrarian o, ad esempio, in questo caso, può essere il prezzo che accumulerà in questa zona e poi riparte la rialzo. Non sappiamo prima se questa zona sarà di target finale del movimento o sarà semplicemente una zona di passaggio, però sono zone sentite dal mercato e avvengono molto spesso delle reazioni sia di contrarian sia di accumulazione o comunque di sosta del mercato per eventualmente una ripartenza. Abbiamo visto in questo video come andare a sfruttare appunto le zone di accumulazione e distribuzione per andare a prendere i target. L'argomento è veramente importante e veramente cruciale proprio perché è alla base per andare a inserire un'operazione o meglio per andare, come dicevamo all'inizio, a giustificare il fine, il target, ecco, che non deve essere troppo vicino proprio perché dobbiamo avere spazio per far sì che l'operazione si possa sviluppare. Se non hai visto l'inizio del video troverai comunque linkati sotto i due video, diciamo, per quel che riguarda le zone di accumulazione e distribuzione un nuovo video per quel che riguarda le inefficienze di mercato che possono essere utilizzate anche in coppia, ecco, come si può vedere anche precedentemente e assolutamente se ti è piaciuto il video non dimenticarti di lasciarci un mi piace e se non sei iscritto al canale iscriviti al canale per non perderti i prossimi video e le colazioni tutte le mattine, ricordati, tutte le mattine abbiamo le analisi per quel che riguarda target, rischio, rendimento e tutte le varie cose dei principali mercati mondiali. Un saluto da Manuel e da Admirals al prossimo video.